Le università di elite che sono generalmente cosiddette università ideologiche, dove tu vai ti insegnano questa linea soltanto di pensiero, questa linea ideologica e ti preparano per fare un agente di questa ideologia. Quella non è università, quella non è. Dove non c'è dialogo, dove non c'è confronto, dove non c'è ascolto, dove non c'è rispetto come la pensa l'altro, dove non c'è amicizia, dove non c'è la gioia del gioco, del polo, sport, tutto quello, non c'è università, tutto insieme.